Oggi vi presento il corso di formazione di tarologia. La prima cosa da sottolineare quando si parla di tarologia è la differenza tra tarologia e cartomanzia. Siamo abituati a pensare ai tarocchi come uno strumento per prevedere il futuro e questo è il lavoro che fa la cartomanzia. La tarologia invece utilizza i tarocchi come strumento di benessere e trasformazione. La tarologia si basa sugli studi di Aleandro Jodorowsky e ci aiuta ad affrontare e risolvere i problemi della vita andando a capire qual è la loro radice. Per questo il corso annuale di tarologia che offro con Anima della Terra è sia un percorso professionalizzante perché ti aiuta, ti insegna come fare un consulto tarologico ed è anche un grandissimo percorso di crescita personale. Durante il corso andremo ad approfondire quella che è la cosmovisione che sta dietro ai tarocchi di Marsiglia rappresentata dal mandala dei tarocchi. Andremo poi ad approfondire la metagenealogia che è lo studio dell'albero genealogico che arriva proprio da Jodorowsky e che ci aiuta a capire da dove arrivano i problemi che affrontiamo nella vita quotidiana. Dopodiché ovviamente andremo ad affrontare, imparare, a studiare gli arcani sia i maggiori che i minori andando soprattutto a sintonizzarsi perché l'imparare per imparare a relazionarsi e fare una lettura è fondamentale, essere in sintonia con ogni singolo arcano e poi andremo a vedere le modalità di lettura dal punto di vista spirituale, etico e pratico. Il corso è un corso annuale da 80 ore. È organizzato in 8 weekend online su piattaforma Zoom e da un weekend finale intensivo di due giorni dal vivo. Nel weekend online lavoreremo la mattina dalle 9.30 alle 13.30, mentre nel weekend dal vivo saremo nell'entroterra Ligure vicino al Piemonte, sopra Genova, nella natura e lavoreremo dalle 9.30 alle 18.30, quindi sarà un weekend dal vivo intensivo. Nel caso dovessi perdere delle lezioni non è un problema perché tutte le lezioni sono registrate e rese disponibili online, quindi sia per il ripasso che per recuperarle nel caso ci sia bisogno. E questo vale anche per il weekend dal vivo. Quindi nel caso tu non potessi partecipare dal vivo sarà possibile seguirlo online e anche recuperarlo a seguito con la registrazione. Per quanto riguarda le date sono già tutte indicate sul sito, mentre per quello che riguarda i costi dipende da quando prenoti, prima prenoti e meno paghi. Se senti che questo è il percorso che fa per te non perdere tempo e iscriviti subito cliccando sul link qua sotto. Se invece vuoi saperne di più partecipa a una serata gratuita di introduzione alla tarologia per capire come questo metodo può portare benessere e trasformazione nella tua vita.